Oggi è da prendere a ridere, neanche senza arrabbiarsi e per la prima volta in tanti anni neanche mi ci arrabbio perché la situazione è talmente comica che è più facile ridere perché oggi la Roma crolla a Firenze, è un crollo tanto esagerato quanto prevedibile ma è un crollo in cui veramente nulla è andato bene, nulla è andato bene da Bove che fa una partita sontuosa contro di noi facendocela pagare giustamente anche perché quello è un errore che la Roma pagherà per tanto tempo perché la Roma non impara mai, non impara mai dai casi frattesi, dai casi scamacca, da Calafiori la Roma non impara, la Roma continua a sbagliare ma è veramente una serata che definire storta è anche riduttivo Hummels che entra preso anche un po' in giro se vogliamo perché non entra mai entra sul 4-1 a Firenze, tempo due minuti e si fa autogol cioè veramente una serata che se la racconti nessuno ci crede e io penso che comunque anche Juric sia arrivato al capolinea perché è evidente anche se è passato poco più di un mese che la Roma sia una squadra che non può andare avanti così non si può andare avanti così, già si era capito da qualche settimana ma oggi è proprio palese, se la Roma giochi contro Juric non lo so quasi quasi lo spero, quasi quasi lo spero perché almeno avrebbe una spiegazione seppur ignobile tutto ciò a cui stiamo assistendo perché se giocassero contro uno dice sono comunque proprio come uomini mezze cartucce però almeno un senso ancora peggio se invece stanno giocando a favore di Juric e giocano così e sfornano queste prestazioni qua ma non è il caso isolato, non è la serata storta è la serata storta che è veramente la ciliegina su una torta in cui al posto della cioccolata c'è qualcos'altro veramente non so neanche che dirvi ragazzi oggi non c'è una cosa che è andata bene, non c'è una cosa che è andata bene Ken che ci fa ballare il tango dietro la Roma che dopo che prende due gol in un quarto d'ora riesce ad accorciare, Juric preso diciamo da un po' di coraggio riesce a fare due cambi, mette dentro con E, con E segna poteva aprirsi un aspiraglio per pareggiare invece tempo zero e va a prendere un altro gol e poi è un'imbarcata io veramente non riesco a salvare nulla in questa Roma ma non è il problema di questa sera il problema non è di questa sera il problema è che la Roma non ha avuto un minimo di cambiamento dal momento in cui si è cambiato allenatore di solito si cambia un po' comunque marcia zero, la Roma ha fatto una partita buona un tempo e mezzo buono diciamo con Juric ha fatto bene la partita con l'Udinese il primo tempo con il Bilbao una partita e mezzo buona e poi soltanto brutte partite perché se vai a vedere anche le partite che hai vinto a parte l'Udinese quindi con la Dinamo giovedì e con il Venezia a fine settembre sono partite orribili secondo me orribili con il Venezia non meritavi mai nella vita di vincere hai vinto benissimo ma comunque sono partite seppur vinte e giocate male sono le migliori sono le migliori a parte quella con l'Udinese che Juric ha offerto pensate voi le altre pensate voi le altre non parlerei neanche dei singoli perché sarebbe un po' come sparare sulla Croce Rossa parlare di Celic parlare di Pellegrini parlare di Dovbic che non viene mai servito di Dybala che è spaesato non ha neanche senso secondo me andare a focalizzarsi su un singolo l'unico singolo degno veramente di nota questa sera è Bove è Bove che ha fatto una partita da 10 in pagella gol assist rigore guadagnato un giocatore che guardando il centrocampo di oggi io ancora fatico a spiegarmi per quale motivo non sia rimasto a Roma perché la Roma non ha tenuto Bove per far giocare Cristante per dire per dire e comunque Bove questa sera ha mangiato in testa a Cristante ma ha mangiato in testa a tutta quanta la Roma adesso siamo all'undicesimo posto a rischio anche dodicesimo perché il Bologna avrà per qualche mese l'asterisco sulla classifica quindi vedremo un po' come verrà poi risolta quella questione che è una questione abbastanza particolare perché bisogna anche capire quando recuperare ma oggi comunque si è secondo me si è toccato il fondo si è toccato il fondo la Roma ha cambiato un allenatore dopo quattro partite questo allenatore ha fatto cinque partite ed è già tempo di ricambiare allenatore ditemi voi la gestione societaria la gestione tecnica da parte della società verso quale direzione sta andando perché io non ho veramente parole è abbastanza evidente che Juric sia stata una scelta non sbagliata di più una scelta folle ma lo si era capito dal primo istante dal primo istante in cui cambia allenatore dopo quattro partite chiami Juric non hai chiamato Allegri non hai chiamato Zidane hai chiamato Juric quindi un allenatore fondamentalmente mediocre che va a rimpiazzare un allenatore che stava facendo male perché non è che adesso De Rossi bisogna mistificare la realtà De Rossi era partito malissimo ma neanche male a tal punto da giustificare un esonero così prematuro ecco hai scelto di cambiare hai cambiato in peggio adesso però che fai vai a prendere di nuovo De Rossi quindi vai a praticamente appiccicare con lo scotch un bicchiere rotto un bicchiere di vetro rotto perché comunque la fiducia Fritkin De Rossi penso che sia ai minimi termini anche per il modo in cui è stato mandato via sarebbe veramente brutto ricominciare lasciamo perdere il fatto che De Rossi sia sotto contratto De Rossi non ci mette niente a firmare una carta e a dimettersi io la vedo la vedo difficile e non la vedo neanche come una soluzione auspicabile sinceramente ma non credo neanche a questo punto che i Fritkin possano permettersi di pagare un altro allenatore quindi paghi De Rossi paghi Juric e paghi il terzo incomodo e poi questo terzo incomodo chi sarebbe ovvio che il sogno è Allegri ma Allegri ti ci viene in questo momento a Roma non lo so magari me lo auguro perché comunque Allegri è uno che quantomeno in situazioni di crisi secondo me qualcosa di buono può tirarlo fuori quantomeno a livello di gestione del gruppo però anche Allegri capite bene che non può fare i miracoli questa qua è una stagione che è stata buttata a settembre buttata a settembre e penso che sia un record cominciare a programmare la stagione successiva a settembre penso che sia un record che spetta alla S Roma perché non ho mai visto nessuna squadra di calcio nessun club nel mondo nella storia buttare una stagione dopo quattro partite e cominciare già a pensare a quella successiva appena iniziato il campionato non ho veramente parole vi ripeto neanche ha senso secondo me arrabbiarsi me l'aspettavo una sconfitta oggi me l'aspettavo perché era talmente prevedibile una partitaccia della Roma non mi aspettavo un cappottone così pesante quello no ma poco cambia se perdi 3 a 1 4 a 1 5 a 1 8 a 1 cambia poco fondamentalmente la sostanza è che la Roma fa una fatica bestiale a trovare punti è che in questo momento fatico anche a trovare una squadra che la Roma batterebbe in maniera agevole perché anche con la Dinamo che è una partita sulla carta facilissima in casa contro una squadra che è una squadra tecnicamente debole che vive da anni un periodo complicatissimo a livello extracalcistico che è venuta con le riserve hai fatto ridere hai faticato hai rischiato anche di pareggiarla più di una volta e anche lì svilare è servito di che parliamo dai Iuri c'è arrivato al capolinea e sinceramente non mi mancherà in questo mese e mezzo con tutto rispetto per l'uomo per carità ma come allenatore male come comunicatore per quanto riguarda le interviste le frasi le uscite pubbliche ancora peggio ancora peggio ed era difficile comunque con questo passo e chiudo che vi devo dire sempre Forza Roma e noi ci vediamo presto con altri video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti